Gentilissime autorità civile e religiose, illustri esponenti delle istituzioni, desidero ringraziare innanzitutto l'Associazione Rondine, Cittadella della Pace, il suo presidente, il grande amico Franco Vaccari per questo incontro così importante e salutare naturalmente la senatrice Liliana Segre. Purtroppo le circostanze attuali non ci consentono di incontrarci ma desidero salutare tutti voi, in particolare i giovani, gli studenti che ogni giorno trasformano questo piccolo borgo toscano in un luogo in cui è possibile costruire percorsi di pace, di comprensione, di solidarietà, di confronto tra culture diverse. A Rondine si scommette su giovani che fuggono da paesi in guerra e che cercano di capire le ragioni dell'altro attraverso gli strumenti del dialogo e della pacifica convivenza. È un'esperienza davvero unica, importante. La presenza quest'oggi della senatrice Liliana Segre, che saluto con amicizia ed emozione, ha dunque un grande valore simbolico. È proprio ai giovani al valore della relazione e dell'amicizia che la senatrice ha deciso di lasciare il suo straordinario patrimonio morale. In questo che sarà il suo ultimo incontro pubblico con gli studenti, anche se noi ci auguriamo di poterla ascoltare e incontrare ancora. È un grande dono che Liliana Segre sia riuscita a sopravvivere all'inferno di Auschwitz, perché ci ha consentito di conoscere, di conoscere e migliorare, e migliorare senza dimenticare. La sua instancabile opera di pedagogia civile di richiamo costante ai valori comuni è per noi un faro, un esempio contro ogni forma di intolleranza e indifferenza. E purtroppo il virus dell'antisemitismo è ancora molto presente nella cultura europea e nelle nostre società. Ricordo ancora con profonda emozione il suo intervento, pronunciato lo scorso gennaio qui a Bruxelles, in occasione della giornata della memoria, la forza della vita straordinaria. Ed è questo quello che dobbiamo trasmettere ai giovani di oggi, che siano in grado di fare le scelte e con la loro responsabilità e la loro coscienza essere sempre quella farfalla, quella farfalla gialla che vola sopra i fini spinati. Purno parole che colpirono tutti i parlamentari di tutti i gruppi politici presenti al Parlamento. Adesso aspetta ai giovani raccogliere la sua preziosa testimonianza, impegnarsi a costruire ogni giorno solide relazioni, favorire dialogo, reciproca conoscenza. Nel rivolgere nuovamente un caloroso saluto alla senatrice Segre desidero ringraziare ancora Franco Vaccari per il suo instancabile lavoro, per un percorso di incontro e di pace e di amicizia fra i giovani e naturalmente fra le nostre società. Saluto gli studenti, tutti gli amici di Rondine, grazie a tutti per il vostro lavoro, per il vostro impegno e naturalmente spero che appena finita questa stagione così difficile ci sia la possibilità di incontrarci di nuovo. Buon lavoro.